Elisa Pagliarini, siamo con la Sincronet che ha vinto queste due medaglie d'argento, la mediterraniancapo in Portogallo. Ci racconti di questa esperienza che hai vissuto assieme a Martina Mastropietro? È stata sicuramente una bellissima esperienza, un'esperienza forse anche inaspettata da alcuni punti di vista. Il risultato in Portogallo, sicuramente le medaglie d'argento erano comunque prevedibili, perché le medaglie d'argento le abbiamo conquistate nella classifica che include solamente i paesi bagnati dal Mediterraneo e l'Italia è molto forte, quindi sapevamo già di poterci arrivare, di poter aspirare a queste due medaglie. Sicuramente inaspettata è stata il bronzo nel libero combinato nella classifica mondiale e siamo riusciti a superare gli Stati Uniti che è stata un'emozione fortissima perché nessuno pensava di riuscirci. Questi risultati partono da lontano, avete fatto tanti risultati, però questa può essere la consagrazione anche a livello non solo nazionale ma internazionale? Sì, sicuramente sì, perché abbiamo lavorato tanto quest'anno, anche Susanna ci ha fatto lavorare tanto e sicuramente se siamo arrivate qui è merito suo della sua preparazione, della preparazione che ci ha dato tutto l'anno, non solo dei collegiali passati. Adesso invece qual è il sogno per Elisa Pagliarini? Anche per mattina Mastro Pietro ovviamente. Beh, io parlo nome di entrambe. Sicuramente è il sogno alle Olimpiadi, è arrivare alle Olimpiadi. La strada però sarà molto lunga e molto piena di ostacoli. Sì, questo è poco ma sicuro. Siamo però pronte comunque. Cosa ti porti via dal Portogallo? Mi porto via un sacco di soddisfazioni, tantissime emozioni e una squadra a cui voglio veramente tanto bene e con cui ho legato tanto.